Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia La prima versione per 1.5.2 Allora Problema Sì, semplicemente ragazzi, come avete visto nello scorso video Mi scusavo per l'audio dei video scorsi I video non sono nemmeno usciti Ragazzi non è possibile, cioè quei video non dovevano uscire Non so cosa ho fatto in quel video che non andava pubblicato Cioè, qualcosa che non va Cioè, mi spiego Cioè, le ho registrati e l'audio era inascoltabile Ho fatto di tutto per sistemarlo In qualche modo era decente, si poteva ad ascoltare E li ho caricati Ma YouTube me l'ha caricati Non so, cioè, sono caricati Ok, sono sul sito, mi dice Il file è in elaborazione, è rimasto nell'elaborazione da ieri sera Non è più stato elaborato E non posso pubblicarlo Perché è in elaborazione ovviamente Mi dice, il video è privato, non può essere pubblicato fino al termine dell'elaborazione E quindi sono bloccato Cose senza senso Intanto io qui sto continuando ad elettrolizzare i bauxite Ho anche uno stack dell'aluminium dust già fatto Cioè, ho già fatto uno stack qui perché ne esce 8 a craft Abbiamo 18 titani Quanta roba, vabbè E comunque ragazzi Vedete vedere Era destino che non uscissero Io questo video lo sto registrando al volo Sono le 2 e mezza Ad uscire alle 6 Penso di farmi tempo, sì Comunque Cosa facciamo in questo video? Andiamo avanti Non posso rimanere 8 ore sui tranelli di YouTube Che mi ha sconfinferato qualcosa E quindi lasciamo perdere Andiamo avanti Che vi devo dire? Io volevo fare che nel prossimo video sistemiamo casa Perché è un po' un casino Vedete tutte le pipe da spostare Mettere un po' in ordine Ma potrei anche farlo nel live Perché il canale del live è praticamente sistemato L'unica cosa che mi manca è Iniziare a farci i live Un creeper Ok E quindi non lo so Magari farò un live Boh Devo sistemare tutto il tetto Devo chiudere Almeno me ne vado a scavare un po' di marmo Sistemo queste cose Non lo so Ma vedo quello che faccio Farò un live Sistemiamo i tubi Sì perché voi guardate Ho fatto i solchi E qui dentro ci andranno i cocoven Anzi potrei anche cominciare a piazzarli Sinceramente Ma alla fine Perché riesco a farlo a live Che è più divertente Magari me l'hai lasciato Mentre lo faccio Questo è tutto da riempire Tutto cocoven Qui sotto ragazzi Questi tutti pieni Siamo tutti da riempire Qua c'è andranno tutto L'impianto logistico Che prende Toglie il carbone automaticamente Blah blah C'era Vabbè Comunque In questo video Ripeto Andiamo avanti Con i nostri craft E quindi Una volta fatto L'elettrolyzer Abbiamo bisogno di cuocere Il nostro titanio Perché vedete Ci sono uscite Le teeny pile of titanium Queste teeny pile of titanium Messe a 4 nella craft Ci danno gli titanium dust No gli ingotti Sto per dire lingotti di titanio No Ci danno le polveri Magari Ci deve essere il titanio Ok Quindi prendo Le mie polveri di titanio Le metto nell'inventario Le tengo al sicuro Anzi Non le mettono accesso Perché c'è paura Perché Ragazzi C'è voi state vedere La fatica Per fare 5 polveri di titanio C'è Elettrolizzare Tutta sta roba Cioè Cioè Parliamone Cioè Effettivamente Tutta sta fatica Non c'è Non c'è Però è abbastanza complesso Si può dire Comunque Cosa ci devo fare Con queste polveri di titanio Le devo Cuocere Le devo far diventare Lingotto E l'unico modo per farlo È all'interno della Industrial Blast Furness Quindi scrivo Industrial E cerco la Blast Furness Che è quella con le fiamme Che è questa qua Industrial Blast Furness Possibile upgrade OTBMS Questa roba avanzata Ne parleremo poi E come si fa Questa Industrial Blast Furness In questo modo Due circuiti Che non mi ricordo Se ce l'ho già I copronichel Etting coil Che abbiamo già fatto Ricordate L'abbiamo fatti Per Ah no Non me l'ho fatti Era per L'alloy smelten Boh Non mi ricordo Eh si ragazzi Perché mi sono saltati due video Non so quello che è uscito E non è uscito E quello che mi ruote I pezzi Avete saltato Mentre io craftavo La Xanderite Shovel Ragazzi Ho fatto la mia pala Con la mia minerale Vedete Io l'ho cotto Eh si Sta cosa Ve lo devo far vedere Ragazzi Perché guardate Se io prendo Un pezzo di diamante Ovviamente potete vedere Tutto nell'anei Eh I craft si vedono tutti Sulla nei Basta premere U su la Xanderite E vi dice Cosa ci potete fare Basta mettere Il minerale Col diamante Uniti insieme E danno all'ingotto E vabbè Fino a qui ci siamo Ehm Ovviamente la versione Che c'è sull'FTB È ancora bugata E il minerale Xander è un po' Bugato Però Adesso è fixato Quindi Dovete aspettare La prossima patch E quelli dell'FTB Per ora non me la fanno Una lunga storia Che poi magari vi spiegherò In un video Non è un problema Comunque Andiamo avanti Cominciamo a craftare La nostra Industrial Blast Forrest Eccola qui Allora Quattro corone Due circuiti Due induction smelter Addirittura Uno già ce l'ho Ma sinceramente Io ne farei altri Effettivamente Sarebbe la cosa migliore Ce l'ho un po' di coal Un po' di coal Ce l'avevo Sì io me lo ricordo Eccolo qui Come no Coal E ferro Sì ragazzi Il ferro sta un po' a corto Perché Ho messo a cuocere tutto il ferro Ho fatto tutto Refane d'iron Ragazzi Ho due stack Quasi Tre di refane d'iron Più altro Refane d'iron Appiastrare L'ho messo a piastrare Sì una valanga Di refane d'iron Perché mi servirà Poi vi farò vedere Per cosa Ok mi servono due Quindi ne faccio Quattro Otto Perfetto Metto subito a cuocere Ragazzi Due induction smelter E voglio dire Otto di questi Cotti Ok Poi mi servono Gli heading coil Che si fanno dentro Allora Rolling machine Vabbè ce ne abbiamo due Ne do farei altri Quindi non si scappa Mettiamo subito qui I nostri generatori Che viaggiano alla massima potenza E producono tutto ciò che ci serve Allora Nickel E copper E nickel Perfetto Li rimettiamo qui nella crafting Come abbiamo fatto l'ultima volta Mi pare copper ai lati E nickel al centro Pensa al contrario Sì al contrario Bello Mi sbaglio sempre Perfetto Altri tre Più due là dentro Sono cinque E ce l'abbiamo tutti Ok Fino là ci siamo I circuiti Li crafto subito E la gomma ce la dovrei avere Ecco per il cazzo Dieci No dieci non basta Lo sai che non basta dieci gomma? Ah però c'è un circuito Quindi basta Uno già ce l'ho Quindi refane d'iron Redstone E via Ok ragazzi Riaccomi E E Sì Certo E E' successa una cosa ancora più terribile Guardate ragazzi Un inventario vuoto Sapete che è successo? Ho craftato L'induction smelter Ho finito di craftarli Sono andati in bagno Sono tornati ed ero morto Ho fatto respawn E tutta la roba è sparita Ho perso tutto Cioè io non so se c'è qualcuno Che me la tira Perché io non riesco Questi me li sono gibbati ragazzi Io non so se c'è qualcuno Che me la tira Se non lo so ragazzi Io non so veramente più che fare Non so che fare giuro Cioè o c'è qualcuno Che me la sta tirando Che vuole che Va male Non lo so Giuro Non lo so ragazzi Sono veramente disperato Cioè non è Cioè io smetto di giocare a Minecraft Basta Lo disinstallo Cioè Disinstallo Java Cioè alla fine Non so più che fare Guardate ragazzi Ovviamente Di situazioni impossibili Cioè sono andato un attimo in bagno 5 minuti Ho finito di craftare tutti L'induction smelter Ho perso tutto Cioè è incredibile E questo perché non ho premuto Esc Cioè devo premere Esc Per andare via Non ci ho proprio pensato Ma come è passato lontanamente Per la testa Che poteva succedere una cosa del genere Cioè Ti pare Parliamo Ho finito il carburante Cioè io Non ho più parole ragazzi Veramente Non so Non so Veramente Disperato Veramente Veramente disperato Guardate Vediamo mentre il call E che devo fare Raga Butto dentro il call E devo fare il call cook Aspettiamo Aspettare che mi piastra Perché Ragazzi Vabbè Cerchiamo di Non pensarci Magari non succede niente Ok Perché sto facendo le piastre di acciaio Le piastre di acciaio Mi servono per fare il machine frame Al centro Vedete ragazzi Al centro ci sta un machine frame Potrei usare quella advanced Ma uso quello in acciaio Perché guardate la advanced Come si fa Tutta questa roba molto avanzata Poi si chiama advanced Ma adesso Non ci interessa Lo faremo poi Perché non sta piastrando Piastra Oh 8 Perfetto Andato Bug visivo Nice Allora Queste 8 piastre si fa come con il machine casing Di base Quello Della Industrial Però si fa in questo modo Guardate Fatto Ok Ovviamente la french non si consuma Viene solo utilizzata per fare il craft Ok abbiamo la machine Che ci manca? Niente c'è tutto C'è tutto No 4 Si 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 c'è tutto Oh va Va Andato Ok ragazzi Ecco qui la nostra industrial blast furnace Mamma mia Ha fatto il macchinario Adesso si usa Manco per il cazzo Ok Questo macchinario è a 128 UT Come l'elettrolyzer Quindi lo metteremo di seguito a questo MFE Però Vediamo un po' Se ho un po' di gomma Niente ragazzi Ho perso pure la gomma Ho perso tutto Cioè Assurdo Non c'è più niente Vabbè Ok Metto altri 3 Considerando che sta a piove E non voglio che Beh Se esplodano tutti i macchinari Ci metto della cobblestone La lana La lana va bene Basta che non ci piove sopra Ok No La metto di qua L'industria blast furnace Vorrei mettere un paio di quadretti di distanza In modo da far passare tutti i cavi Se necessario Quindi la metto tipo qua Ok Messa in questo posto Guardate che succede ragazzi Tim 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 Guardate il lampeggia rosso Perché lampeggia rosso? Vuol dire che c'è un problema ragazzi Quando c'è un problema Vedete vedete il lampeggia rosso Basta aprire il macchinario Guardare sotto In basso dove c'è la G Che dice Craft tech Dice Incomplete machine casing E inventory Vuol dire che Per iniziare il craft mancano oggetti E ok E in più dice Incomplete machine casing Indie che mancano Le strutture Machine casing manca E quindi dobbiamo fare la struttura Per la nostra blast furnace Ed è Molto grande E per farlo ci saranno un sacco di cosettine Che ora vi faccio subito vedere Che si chiamano Che si chiamano Machine Casing Però sono i standard Machine casing Eccoli qua ragazzi Si fanno con il machine casing Della industria craft Che ovviamente ci sono tutti i vari tipi Prende anche quello della Della thermal Quello di tutte le moda Eccolo qui il machine block E due circuiti sui lati Quindi mi servirà Tantissima gomma Perché Ne crafto solo 4 Alla volta E a me me ne servono Una valanga Se volete sapere esattamente Quanti ce ne vogliono Vi faccio un disegnino Della struttura Guardate vi faccio vedere Se trovassi Devo ricraftarmi tutto Tutto ragazzi Ho perso tutto Non c'è più niente C'è veramente Guardate O c'è qualcuno che me la dire C'è pure La redstone L'oro Tutto ho perso Me ne devo andare da un po' in caverna Ragazzi Non posso fare altrimenti Ok Vandiamo un po' di legno Facciamo un paio di stick Rifacciamoci un piccone Che posso Solo questo posso fare Perché ho preso 2 diamanti E non 3 Perché Non c'ho manco la spada Devo rifarmi anche la spada Mori A posto Meno male che era già a metà vita ragazzi Perché altrimenti Finivo male oggi Ok Stick Spada Rifarmi la spada in diamante Il piccone in diamante E questo posso fare Certo Andare a scavare un po' di diamante Non sarebbe una cattiva idea Mamma io che mi sveglio Perché Altrimenti finisco male qui Perfetto Ok ragazzi Ho il piccone Mi servono un paio di blocchi Così vi faccio vedere La forma della Della blast furnace Nel prossimo video La andremo a craftare Però quali blocchi uso La cobblestone La sabbia No La stone Fa più figo Vai di stone Ok Di blocchi esattamente Ne servono 9, 18, 27 35 Meno 2 Ne servono 33 In totale Faccio vedere bene Una struttura del genere Perché 33 ragazzi Perché al centro Vanno lasciati gli spazi Sono tipo le 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 cook Avete presente i forni Che faccio io qui Questi forni Che hanno il vuoto al centro Ce li avete presenti? C'hanno un blocco vuoto La stessa cosa è la blast furnace Solo che invece di essere 3x3 È 3x4 Quindi sono 2 spazi vuoti Vi faccio vedere Guardate Questa è la base Contate i blocchi che piazzo Sono 8, 2, 8, 16, 9, 9, 18 Sono 9 sopra 9 sotto E quindi 18 E 8 e 8 e 16 Al centro Quindi sono 18 più 16 Sono 32 No 34 No 32 Perché 34? No 17 36, 34 Se io ho detto 32 Prima sono 34 Invece Vedete Rifacendo i conti Forse Forse me l'ho sbagliato Non mi ricordo Vabbè Comunque questa è la forma Che avrà il nostro macchinario Quindi non dobbiamo fare altro Che craftare i nostri machine casing E poi potremo Utilizzarlo Ragazzi Io vi saluto per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Dove spero Qualcuno non me la tiri Io non Non so Intanto li metto qui Perché fa figo Non so se fare le finestrelle Da 2 o da 3 Ci devo pensare Vabbè ovviamente Dovrò riempire tutto Qui poi ci penserò Quando sarà Sto prendendo un po' di misure Ragazzi E non è facile da fare Cioè deve essere tutto simmetrico Perfetto Deve essere pure figo Devo pensare a come fare le finestre Vabbè Io vi saluto Ciao a tutti